primo punto olimpia paul biliga perché può sembrare strano se uno ci pensa un attimo con tutti i grandi campioni no gli uomini copertina giocatori di status europeo contratti importanti fama carriera però è pol biliga alla fine se milano è riuscito a giocarsela fino in fondo in gara 4 e ha vinto gara 5 e c'ha avuto un discreto ruolo è fondamentalmente è più mobile parecchio di jaité più cattivo parecchio di jordan michi e in partita rimbarsi d'attacco intimidazione difensiva stoppate aiuti recuperi schiacciate è stato il giocatore che in un certo senso ha suonato la carica l'asso che a un certo punto messina ha tirato fuori dalla manica non so in maniera quanto consapevole e volontaria perché se poi vai a vedere bene fino a metà di gara 4 biliga aveva giocato scampoli di garbage time poi si è rotto heinz e a qui punto questa cosa qui gli ha spalancato le porte della rotazione prima della finale io avevo detto heinz e cordinier potrebbero essere i due giocatori decisivi da una parte da quell'altra non mi immaginavo però in questo senso che devo a me devo essere non mi immaginavo in questo senso tra l'altro heinz è uscito vistosamente dolorante in quel momento lì cioè si teneva alla spalla una roba che io poche volte forse mai ho visto in carriera nei confronti di cioè nella scala vas di dolore vistosamente dolorante per heinz per una persona normale e bisogna cominciare a chiamare taffo secondo punto limpia che sta tre a due ma che fino a ieri sera stava due a due in totale assoluta parità una serie in cui in gara quattro siamo andati no a uno ma due supplementari una serie tra due squadre che alla fine di un anno intero di stagione regolare erano in totale parità assoluta di punti in classifica quindi fondamentalmente due squadre che si equivalgono e shavon shilts vai a vedere c'ha più 37 di plus minus cioè vuol dire che in questa serie qui milano con shilts in campo fino ad ora gli ha dato quasi 40 punti alla versus bologna ora io sto per fare un paragone che lo so mi porterà a una sequela di critiche però io lo devo fare nella specifica nella specifica dell'attaccare gli spazi questo shavon shilts fatte le dovute proporzioni pallacaneso di qua pallacaneso di là assomiglia tanto all'ultimo hobby bryant in quella singola specialità dell'attaccare gli spazi e non è una colpa della virtus perché la virtus è in staffetta continua su shavon shilts la maggior parte delle volte lui tira con davanti uno che è più alto e più grosso di lui sta difendendo bene la virtus il problema è che shilts è più forte e non è solo più forte di tanti difensori della virtus ma anche mi viene da dire a questo punto di tanti altri giocatori europei quasi tutti io non so che prefisso ci abbia il telefono da phoenix ma va scoperto perché bisogna comincia a bloccare le chiamate io ve lo dico oppure durente chiama dai cellulare non lo so c'ha i minuti limitati durente intangibles terzo punto olimpia li chiamano così dall'altra parte dell'oceano dalla parte di heaven durente per l'appunto cioè quelle cose che non vanno nelle statistiche però rischiano ad andare nei contratti sotto forma di zeri dalla parte buona perché so quelle cose che fanno la differenza tra un giocatore che vince e un giocatore che non vince una squadra che vince e una squadra che non vince qualche esempio così randomico che mi viene in mente shavon shilts in gara 5 ferma i cori contro ahet da parte dei tifosi di milano non era chiamato a farlo non era tenuto a farlo però l'ha fatto neivier che a un certo punto subisce un fallo bruttarello lui si riarza con uno sguardo tipo lo chiamavano trinità e da thome voigtman che gli si buttano addosso lo placano a terra per evitare che in un momento in cui la partita era palesemente indirizzata pro di milano facesse qualche bischerata altra cosa biliga che a un certo punto chiama il challenge messina che si fida di biliga e il challenge lo vince milano melli che all'inizio di gara 3 se non ti butti indietro fondamentalmente forzi sempre a meno che tu non sia 2 13 biondo nativo di woodsburg forzi sempre comunque forza sbaglia alza la mano per scusarsi con la panchina e mentre che alza la mano è comunque il primo che ritorna in difesa piglia posizione e subisce lo sfondamento di schenghelia sono tutte quelle piccole cose che però fanno assomigliare questa a una squadra vera forse a una squadra più squadra rispetto alla virtus e in questo questa serie non è cambiata troppo alla fine dopo il 2 a 0 per milano rispetto a ora si è allungata però in queste piccole cose milano sembra ancora averci qualche cosina in più tipo il fatto di non essersi arresa sui meno 18 in gara 4 il fatto di essere tornata comunque in partita simbolo principale di essere a tutti gli effetti una squadra perdere in questo momento qui lo scudetto in gara 7 a milano unico scenario possibile in cui l'olimpia ora può perdere lo scudetto ci starebbe un po come i coniglio sulla maglietta di trans man ai forum l'altra sera uguale primo punto virtus gara 4 perché nessuno sa in questo momento come può finire questa serie però se ci abbiamo una gara 6 domani sera da giocare lo dobbiamo quasi esclusivamente a quella gara 4 che è stata secondo me la partita più bella della serie la partita più bella dei playoff e la partita più bella dell'anno una partita che per la virtus ha significato molto di più del punto del momentaneo pareggio sul 2 a 2 da un punto di vista proprio della fiducia aveva vinto quella partita lì per tante cose mi ha ricordato la gara 3 di finale scudetto del 2007 siena roma io c'ero lì di persona proprio il palazzetto a vedere la partita finì dopo tre tempi supplementari e senza quella vittoria in gara 3 di 2007 io sono assolutamente convinto che la dinastia della menzana non sarebbe mai cominciata cioè non ci sarebbe proprio mai stata ora non so neanche se augurare ai tifosi della virtus che possa valere lo stesso ora per la virtus perché sotto altri prospettive magari se non fosse mai iniziata la dinastia della menzana oggi forse siena avrebbe ancora una squadra in serie a io questo non lo so però al di là di questo quella partita esattamente come questa rimarranno nella storia da una parte mckintyre forte david hawkins de ambo di roga e razza mlorbeck da quitt'altra parte melli teodosic ahet shields devo dire però che da un punto di vista di tasso di criminalità lonnie baxter e roberto el tanque gabini ai giorni nostri siamo un po sguarniti tasso di criminalità caso le delza caracas secondo punto virtus milos teodosic di nuovo come settimana scorsa perché da una parte gara 3 a un certo punto lui l'ha illuminata con quel passaggio no look per ahet che ha voluto dire tanto perché per la prima volta nella serie si è visto il vero teodosic e si sono accesi proprio gli occhi la speranza dei giocatori della virtus perché a quel punto hanno detto oh ma fino a che questo giova per noi questa serie qui ancora non è finita con quel passaggio lì la virtus ha cominciato a crederci quel momento era sotto 2 a 0 non era facile la situazione poi in gara 4 la tripla alla fine decisiva l'ha messa ancora lui in barba tutti quelli che dicano che nei possessi finali non può le sta in campo non può le giocare non si prende le responsabilità eccetera eccetera e poi però gara 5 ha fatto schifo ha giocato proprio per quell'atri bisogna essere onesti cioè no la peggior partita di teodosic da quando gioca la virtus secondo me sì e questa cosa qui semplicemente la virtus non se la può permettere soprattutto se capita nella serata storta anche di scenghelia ragazzi sono due che come ingaggi sommati insieme coi sordi che ci compri loro due una squadra normale ci compra tutti i giocatori i purma e metà dei seggiolini di palazzo tanto quell'atri mezzi sovoti sicché no questa cosa qui non si può dire dice per scusa coraggio questo serve a questo punto della serie a bologna dopo una stagione di tipo 80 partite o giù di lì dopo quella di domani sera potrebbe non esserci un domani a cui eventualmente rimandare no un azzardo un tentativo un colpo di testa una roba che di cui poi se non la fai invece ti potrebbe rimanere un po di rimpianti e quindi io fossi scariolo mi giocherei la carta del cuore mi giocherei kyle wims in rotazione kyle wims in campo gli permetterei per l'ultima volta di salutare la sua bologna e il suo pubblico perché se anche bologna vince la serie va avanti però si gioca a milano per cui comunque vada è l'ultima occasione per kyle wims per poter salutare il suo pubblico per tutto quello che è stato per tutto quello che ha dato visto che poi pare ormai certo il prossimo anno vada a tortona non ci sono particolari indicazioni tecniche che possano valere una cosa di questo tipo perché la virtus spesso ha sofferto sotto canestro wims può dare il contributo che ti può dare sotto canestro i due giocatori che potrebbero eventualmente dargli spazio cordinier è intoccabile oggi lei comunque sta giocando bene però alle volte in queste situazioni le questioni tecniche vanno anche un po' lasciate da parte cioè messina ha vinto gara 5 con l'ultimo quintetto in campo con voigtman biliga ricci shields e baldasso no sì baldasso billy baron quindi praticamente senza play e con tre lunghi in campo insieme contemporaneamente non c'erano particolari motivazioni tecniche alle volte bisogna andare anche un po' oltre e avere wims in campo a questo punto sapete io non so particolarmente favorevole di solito a toccare le rotazioni in questo senso cioè mi piace quando un allenatore sceglie i suoi giocatori da playoff e poi va avanti con quelli per fare quadrato intorno alla squadra però a questo punto qui la presenza di kyle wims anche se non dovesse imbricare la partita della vita cosa che ci sta cosa che è pacifica è probabile ma la presenza di un giocatore come kyle wims che non è un giocatore come tutti quell'altri per la virtus potrebbe fare da collante per certi aspetti anche per i compagni nei rapporti tra giocatore e giocatore nei rapporti tra giocatori e staff cosa che qualche volta un pochino ha scricchiolato no cioè mi viene in mente a un certo punto ieri sera scariolo chiama time out momento decisivo della partita primo possesso ato dopo il time out di scariolo in frazione di 24 ma dopo il time out in frazione di 24 fai una roba di genere a obradovice con le vene di collo ci può giocare a shanghai di 24 fai una roba di genere a scariolo in frazione di 24 fai una roba di genere a